Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io come sempre sono Nickybox e siamo qua a Gnargrides Devo fare subito la prima kill Sto registrando subito in fretta così No L'ho hittato e non l'ho ucciso No Vabbè comunque come vi avevo promesso siamo qua oggi con un gameplay Incentrato sullo sniper E non lo gioco da mille anni Quindi ragazzi mi dovete innanzitutto scusare se farò tipo 0-157 Perché come vi ho detto non lo uso da Veramente da un sacco di tempo E quindi mi ricordo le mappe più o meno Però non mi sparare Sono un bravo bimbo io Non mi sparare Però non mi ricordo più come si gioca lo sniper Quindi farò una figura di merda Comunque Siamo ritornati su MW2 Ragazzi questo gioco piace veramente un sacco No Quello lo dovevo uccidere Lo dovevo uccidere Intanto sei ancora qua dentro Vero? C'è anche il tuo amichetto Là sopra No ma non si vede nessuno tra qui No Vabbè comunque È troppo figo sto gioco ragazzi Ogni volta che lo riprendo in mano Che ci gioco di nuovo È veramente sempre Un'emozione grandissima Perché A parte che ci sono cresciuto su questo FPS Però Vabbè Non importa Dai prendi da sta bandiera Ok Non potete Dirmi Che non gioco Per gli obiettivi Quello lì non moriva Ha dovuto sparare di 16 colpi Vabbè comunque Non potete dirmi che non gioco per gli obiettivi No dai Non ci credo Ci siamo uccisi a vicenda Ehm Non potete dirmi che non gioco per gli obiettivi Stavolta Oh ma sta gente non muore Mica Di solito un colpo Li shottavo Non capito Dov'era Dietro ci Dietro Così dell'immondizia Quanto devi essere Stronzo Per stare là dietro Adesso ti vengo a prendere Sai tranquillissimo Ok Dopo Cosa dobbiamo fare Cioè Uccidiamo tutti Non cosa dobbiamo fare Ehm Adesso Se mi ricordo Ma tanto Non ci riesco Oddio Che mira di merda Dove sei amico mira Eh Non l'ho visto ma neanche proprio Non lo vedevo mai Mai più nella vita Quello Ok Con calma ragazzi Ricomincerò A Uh se mi riusciva Non mi riusciva Eh ma se mi riusciva No Non mi piacciono le granate Proprio negli occhi Mi era caduta quella Vabbè Io faccio esplodere I cosi Non l'ho presi Ah si l'ho preso Ce n'è uno vicino Uno vicino E dietro di me Esatto Esatto No Ho ucciso quella con il barile Sono un genio ragazzi Vedete che Cioè Serve sempre Per fare esplodere i barili Dai ma perché non muoiono Non ho parole Eh spero sia rimasto In ultima speranza almeno Perché se no Non ha senso Veramente Cioè Io mi ricordo Che un tempo Li sciottavo Ma puoi essere così camper Veramente Dai Ma dove sono tra l'altro Sono anche dentro i muri Oh Vedete che è sciotto ancora Oh Chi è che mi sparo Non mi sparate che sono sensibile Ai proiettini Sono anzi allergico Più che sensibile Perché Se li prendo Muoio Eh lo so Purtroppo è una malattia Mortale Per l'appunto No Vaffanbrodo Io tra l'altro Mi concentro tantissimo Quando faccio i quickscope Sto zitto per un po' Perché Come avete sentito Perché Mi concentro tantissimo Tipo il mio cervello Lavora 100 volte di più Già Già lavora poco Quindi 100 volte di più È veramente tanto Vediamo se esco a fare esplodere i bari lì Again No Perché Ce ne erano due solo Mi pare Eccoti No Volevo fare double di coltello Tanto c'ho commando pro Che Ovviamente Guarda che non l'hanno visto Tra l'altro Si era Chi era Chinato Cioè Chinato Stragliato E non l'avevano visto Dai entra Oh Si Non faccio sempre quickscope Perché Come avete visto Non sono ovviamente capace O meglio Non più E quindi Devo Riprendermi Vediamo qua sopra Se c'è qualcuno Mi ricordo che I tempi d'oro Lassopra Andavano avanti Di claymore Piazzate lì E E Fucilate negli occhi Di claymore Piazzate lì E si piazzavano Lassopra E ammazzavano tutti Ok C'è di nuovo quello Solo che non so dov'è L'hanno ucciso Perfetto Adesso ci spariamo Una cosa epica Non questo Però vabbè Ci siamo Oh raga Io lo faccio Se viene Spacco tutto No Ho preso il muro Tra l'altro Vabbè non importa Non facciamo mai più Perché Muoglio 16 volte Però Dai Dai Ma dove cazzo Mi ha preso Che io ero dietro il coso Incredibilibile ragazzi Intanto sei qua Mi stanno sparando ovunque Non capisco che cos'è Che mi spara così tanto Tra l'altro Ah eri tu Infame T'ho trovato Intanto in questo gioco Le coltellate erano Dei pugni in faccia Con un coltello in mano Non erano Dei coltellate Vero e proprio Infatti è Fichissimo Ok forse di prima Sì Perché No 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 Vi ricordate ragazzi Quelli un po' più grandi Magari Quelli di Magari di 16 15 17 anni I Come si chiamano I montage Che c'erano sul suo gioco Che belli Mamma mia Infatti Ci passavo Un sacco No Non puoi avere Non puoi avere Antidolorifico Non puoi Ci esco un po' Stronzo Dentro l'anima Comunque ci passavo Un sacco di tempo Per cercare di registrare Delle clip decenti Invece poi venivano Delle merda Tipo provavo a fare Sempre così E se prendevo qualcuno Poi tipo Esplodeva la playstation Perché era qualcosa Di epico Non è mai successo Vediamo se riesco No Dai Non ci credo Tira fuori la testina Lasciatemi qualcos'altro Adesso mi arriva Un elicottero in braccio Proprio Dai vai tu avanti Così se muori Mori tu Infatti Tanto al comma Ha fatto morire Esploso Ciao Mi chiamo Nicolas Giuseppe I ragazzi che mettono nome E cognome Oddio Ragazzi che mettono nome E cognome Negli account PSN GG GG Che non vuol dire oggi Ma vuol dire Good game Perché una volta È successo Che a un mio amico Gli ho detto GG E lui fa No E io ho detto Cosa no? Eh Perché tipo Stava parlando Oh cazzo L'ho preso in testissima Quello Eeeh Ci sono rimasto male Perché mi fa No E faccio Cosa no? Mi fa E hai detto oggi Mi faccio no GG sta per good game Quindi dovrei un po' Cioè Vabbè avete capito No? Comunque Andiamo a uccidere Altra gente Dio Dio No No Tanto ci siamo lanciati tutto Ma Abbiamo ucciso lui alla fine No 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 Siente Bravo Mori tu Adesso lui è felice Ammazzo l'amico dietro Vabbè ammazzo lui Invece no Mi ha ammazzato me Non ci camminiamo addosso Non è simpatico Ragazzi vi faccio dare un trick spettacolare No Non mi è venuto Non mi è venuto Vediamo per quanto tempo Non mi verrà No Niente da fare Oh Non ci credo Non ho parole Oddio Niente Vabbè Non perdiamo tempo Perché sennò Dopo ci riprovo Adesso il predator Prenderà me No Non ci credo Non è successo Non ha preso me E' in questo gioco ragazzi Anzi diciamo in tutti i cod Quasi si impera e la torpende Va bene No Vaffanbrodo Riproviamoci Niente 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 Madonna Va bene Va bene Andata anche bene No Non ti ho visto Eh in due Ma come fai a camperare così Cioè sei proprio Morto male Ragazzi non riesco a fare sto trick Ed era uno dei Dei miei preferiti E quelli che riuscivo a fare meglio Pensate voi Ah Io non c'ho da una cosa Ma non ci O l'hanno fixato Perché era tipo un glitch Aspettate Niente Vaffanbagno Non ci riesco Andiamo a uccidere gente Ci penseremo poi No E beh Ci ho provato Comunque Non potete camperare così tanto Ragazzi Veramente E' anticostituzionale Una cosa del genere Vediamo se L'elicottero C'è il pay blow Ah Non vi aspettate Ricompense uccisioni Ovviamente Sottointeso No 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 Cioè Non che Dai no L'ultima kill No E' brutto così però Dai Sembra che non so giocare poi 26 26 Dove le uccise 26 persone E quando sono morto 27 volte soprattutto Forse mentre cercavo di fare i trick Quando mi sono lanciato giù dalla collina Vabbè dai ragazzi Come sempre ragazzi Se questo video vi è piaciuto Io vi invito a lasciare un like Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Sotto Trovate in descrizione La pagina facebook Andateci a lasciare un like E io vi ringrazio per tutto ragazzi Noi ci vediamo come sempre Al prossimo video Bella Noi ci vediamo come sempre Noi ci vediamo come sempre Noi ci vediamo come sempre